Ciao a tutti ragazzi, sono Cracker Gaming Benvenuti a questo nuovo episodio del Let's Play di Minecraft Oggi come sempre sono qui con Sterile Phoenix Ciao a tutti Nello scorso episodio abbiamo iniziato a costruire la stanza chest E ora l'abbiamo quasi finita, ora vi faccio vedere esattamente i progressi e dove siamo arrivati E in questo episodio finiremo un pochino e poi pensiamo di fare un'altra stanza Però quello faremo vedere esattamente dopo che cosa sarà Come vedete abbiamo finito di mettere le ceste Ancora non abbiamo messo i mezzi blocchi sopra perché ancora siamo un po' a corto di legno, di quercia purtroppo Però lo faremo presto In pratica anche il pavimento è finito Qua ho fatto una specie di apertura per una cosa che farò in futuro E anche il soffitto è praticamente finito Ora però manca mettere le finestre che è una cosa molto bella da fare a mio parere Che è quasi di solito l'ultima cosa che faccio Quindi iniziamo a farci un bel po' di lastre di vetro Iniziamo tanto così anche perché è il massimo che posso fare col vetro che ho Perfetto, andiamo giù a mettere le finestre Ho anche cambiato un pochino le finestre rispetto allo scorso episodio Sono più alte di un blocco Non so se non state Prima c'era un blocco a questa altezza di legno Adesso invece l'ho tolto Perché secondo me c'è una vista molto migliore in questo modo Quindi facciamo così E ora anche sopra Inoltre io ho fatto anche delle modifiche alla mia stanzetta Poi vi farò vedere esattamente E anche Paolo è andato un pochino avanti Adesso appena finisco di mettere tutte le finestre Vi farò vedere esattamente a che punto siamo anche con quello Ok abbiamo quasi finito E' un po' brutto mettere le lastre di vetro Perché si fa un po' di fatica Specialmente quando bisogna metterle sopra alle altre in questo modo Qua se era il Phoenix pensavo di fare un'entrata Quindi non so Ancora queste aspetterei di mettere le finestre Perché pensavo di far passare la sua stanzetta Che è qua E fare una strada che arriva qui Quindi per ora non metteremo le finestre Comunque vedete questo è il corridoio che porta la sua stanza Niente di particolare Qua c'è la sua stanzetta Ancora non ha fatto molto purtroppo Adesso vi faccio vedere esattamente a che punto sono con la mia Sono andato un pochino avanti Non molto però Un pochino più di prima Questa è la stanza E' un po' diversa Ho fatto bene questo muro Adesso è praticamente quasi un semicerchio più o meno In realtà un quarto di cerchio E qua ci ho messo anche il letto L'ho largato anche un po' E ho fatto una finestra da questa parte Poi ho modificato un pochino questa zona Ho alzato il soffitto Ho messo queste cose qua E adesso voglio metterle anche qui le finestre Oh purtroppo qua ho sbagliato Così E anche qui Una piccola finestra Qua per ora non le metterò Perché vedete che ci sono queste specie di angoli Quindi pensavo di mettere i blocchi interi Perché mettendo le lastre di vetro Vedete che non si connettono Dovrei metterle così E sarebbe un po' brutto a mi farere Quindi metteremo i blocchi Ok quindi per ora questo è quello che faremo per le casette Al limite Andiamo avanti successivamente E adesso volevamo fare un'altra cosa che è molto importante In pratica Volevamo iniziare a fare il tavolo da incantesimi Per farlo Servono due diamanti Quattro di ossidiana E un libro I diamanti e il libro ce li abbiamo Ci serve solo l'ossidiana Per prenderla bisogna fare un piccone di diamante E ora lo faremo Vedete abbiamo Ben più di tre diamanti Quindi possiamo farlo senza problemi E lo crafto in questo momento Il primo piccone di diamante della serie Siete pronti? Boom Eccolo Adesso dobbiamo semplicemente trovare un lago di lava abbastanza grande Dove andare a prendere l'ossidiana ovviamente Adesso quindi iniziamo a cercarlo Facciamo un piccolo stacco fino a che non lo troviamo A dopo Ok ragazzi Siamo andati nella miniera Che avevo scavato un po' di tempo fa Off camera per trovare un po' di materiali E mi sono ricordato che qui c'era un po' di ossidiana La vedete qua Quindi adesso cercheremo di prenderla Scaviamo un po' intorno così Non rischiamo Vedete che c'era dell'acqua E qua sotto c'è un lago di lava Quindi Se arriviamo qua e blocchiamo l'acqua Dovremmo riuscire a prendere l'ossidiana in santa pace Ok Eccoci adesso togliamo anche questa ghiaia Purtroppo mi sa che non ho una pala Quindi faccio a mano Ok Prendiamo questo pezzo di ossidiana Sperando che ci sia lava sotto Che non sarebbe bello Ok Per fortuna no Siamo a uno Ce ne servono quattro Quindi Questo era uno Questo dovrebbe essere due Siamo quasi Ok qua c'era l'acqua C'è la lava Però visto che qua sotto non c'è Quindi Prendiamo questi due E siamo a posto Tre Ok Manca l'ultimo E Dai Ci siamo quasi Quattro Perfetto Adesso possiamo anche tornare indietro Vi faccio vedere Semplicemente Questa miniera Ho scavato verso il basso Facendo una specie di scala E appartiamo ora Ho raccolto Un po' di verra rossa Si L'ho lasciato lì Perché avevo finito il piccone Comunque Saliamo Penso sia notte però Purtroppo Quindi dobbiamo affrettarci Verso la casa Adesso vi faccio vedere Esattamente dove sono uscito Adesso dovremo anche Costruire una stanza Dove faremo Appunto Gli incantesimi E faccio vedere anche La montagna Dove pensavamo di farla Adesso Iniziamo a uscire Tu ci sei Paolo? Sì Un attimo Inizio ad andare Lasciamo salire qui Poi prima o poi Penso che dovrò anche Fare bene Una scalinata O rifare bene Il versante Di questa montagna Perché E' ancora un po' Complicato salire C'è un creeper là Lasciamolo Perdere Tanto qua Mi sono accorto Che non è molto illuminato Purtroppo Quindi Metto un po' di torce Almeno negli angoli Ecco qua Ok adesso Ci serve Un libro Che per farlo serve Della pelle Che è qua E della carta La carta si fa Con lo zucchero Vediamo Dove è lo zucchero Se ci abbiamo qui No Dobbiamo andare a prenderlo Cioè Nel inventare dell'asino Ah dell'asino Vediamo L'ho messo lì Per quando andremo A commerciare Ah eccolo Perfetto Quindi Adesso Facciamo la carta Mi sa che serve Il crafting table Carta Carta Dov'è Non la trovo mai Forse è in fondo Ok eccolo Adesso possiamo fare Un libro Ok Quindi abbiamo Prendiamo anche I due diamanti Facciamo Il tavolo Da incantesimi Dov'è che è? Qua Pronti? Eccolo Adesso vi faccio vedere Dov'è che volevo farlo Intanto mettiamolo via In pratica Avevo fatto Vi ho fatto vedere In uno degli scorsi episodi Che avevo fatto un ponte Che va da qui A quella montagna lì In pratica All'interno Di quella montagna Volevo fare Appunto La stanza Dove faremo Gli incantesimi Ancora non abbiamo Molti materiali Quindi facciamo Ancora un piccolo stacco E ricevoleremo un po' di materiali Specialmente legno Che sarà Quello di cui sarà fatto il ponte Quindi ci vediamo dopo Perfetto ragazzi Siamo tornati Adesso Ho preso un bel po' di legno Più che altro Paolo ho preso Perché Me l'ha dato lui Un po' di legno Adesso Facciamo il ponte Allora per ora Lo farò semplicemente Piatto In diagonale In questa maniera Probabilmente lo modificherò In futuro E lo farò Lo abilirò un pochino Però Per il resto Quello che importa È la funzionalità Non tanto l'estetica Quindi Finiamolo qua Ok mi sembra che Come ho detto Sia abbastanza buono Ancora un pochino E Ci siamo quasi Ok Ok perfetto Questo è il ponte Adesso Ovviamente Dovremmo scavare Anche dentro la montagna Poi Guarderò bene Quanto grande farla Comunque non pensavo Di farla Molto grande Alla fine Ci serve solo Per fare gli incantesimi Appunto Ehm E non Penso Pensavo anche Di fare Una stanza doppia Che in pratica Farà anche Da stanza delle pozioni Però Però al limite Questo lo faremo In futuro Ancora Dobbiamo andare Prima nel nether Per poter fare Le pozioni Ah ciao Paolo Ehm Stavo guardando Che dovremmo anche Ricoprire Questa roba qua Di terra E metterla La terra fino a Aspettate un attimo Dove Eh si Dovremmo fare Dovremmo metterla Fino a Le cose fatte bene Starebbe Molto meglio Comunque Iniziamo a scavare Magari Già che ci siamo Uso il piccone di diamante Questo ponte È molto sicuro E lo so Devo Devo vedere Come fare i muri Comunque Ho un'idea Per farli Quindi Per ora Lasciamo così Perché non abbiamo Ancora i materiali Però prima o poi Lo sistemeremo Di sicuro Qua la stanza Vorrei farla O 9x9 O 7x7 Quindi L'angolo è questo Quindi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Quindi dobbiamo scavare Fino a qui Ok la stessa cosa qui Quindi 1 2 3 4 5 6 7 8 E 9 9 Stava perpendicolarmente Si si Se è un po' troppo piccola Si si aspetta Se è un po' troppo piccola La faccio 11x11 Però Sembra abbastanza grande Ok C'è qualcosa che non quadra Aspetta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Questo è giusto Quindi Ok Spendiamo di scavare Bene Tutti i blocchi di pietra Comunque mi sa che non possiamo neanche farla troppo grande Perché Infatti qua c'è L'uscita Beh comunque bene Qua potremmo magari farci una finestra Finiamo di rompere questi blocchi Ma io direi Questa montagna Scopertiamola completamente E poi ci costruiamo sopra Qualunque cosa Sopra? Quindi proprio sulla superficie E scogliere tutta questa parte sopra E poi ci costruiamo sopra Cioè Costruiamo sopra ma nel senso qui Si si forse Sai che mi sembra Una buona idea Ok ragazzi Come vedete Abbiamo spianato La cima della montagna Ora però Dovremmo andare a prendere Delle librerie Richiedono molti libri da fare Quindi Se lo facessimo normalmente Con lo zucchero Penso che ci metteremo Un sacco di tempo Però noi abbiamo trovato Un villaggio E nel villaggio Se non sbaglio C'erano delle librerie Quindi adesso Vorrei cercare di andare A prenderle Usando anche l'asino Come avete visto E già che ci siamo Magari fare qualche scambi Quindi Iniziamo a dare un nuovo Ciao Ok Dovremmo esserci quasi Sono passato da questa parte così Non dovremmo avere problemi Col canyon Penso Ok Poi prima o poi Dovremmo anche fare un ponte qua Ma forse però Qua si riesce a passare Vabbè Quasi Salto Uh ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Non so come Vabbè Ok andiamo nel villaggio Ok Per ora Per ora L'asino Lasciamo Dove possiamo lasciarlo Qua Allora Vedo delle librerie qua dentro Devo anche fare attenzione A Non Lasciare Liberi I Villaggeri Quindi Entrerò da sopra Poi Poi Sistemerò anche le case Ok Quindi Scusate ma Devo prendere Queste librerie Daranno solo i libri Le librerie Però Nel senso Il legno ce l'abbiamo Quindi Possiamo farle Così Ok Ora però Dobbiamo salire E però mi blocca Aspetta Togliamo questi blocchi Che mi danno un po' di fastidio Che tanto non servono più E dai Vabbè E usurpiamo anche questo Allora Ok Ora andiamo qui L'ho mancato tantissimo Però dovevo riuscire a mettere comunque La L'aria in aria Perfetto Ora praticamente Da fuori E' identico a prima Quindi Non si è notato Poi Visto che ci sono anche Delle librerie dentro a questa casa Intanto mangiamo un attimo E entriamo Magari Facciamo proprio dal tetto Che verrebbe ancora meglio forse Facciamo così Ok Entriamo proprio da qua Eccoci E adesso possiamo prendere Tranquillamente Le librerie Ok Ora vediamo Quanti libri abbiamo 42 Però E ora Torniamo su E purtroppo Questa terra Dovrò lasciarla Però Non si può fare niente Se no diventa un casino Tanto Prima o poi il villaggio Dovremmo sistemarlo Quindi Lo rifaremo In quell'occasione Adesso posso tornare indietro Ah no Però aspettate Prima volevo fare qualche scambio Vediamo se posso interagire con lui Uh Questo Mi da Lo smerato per 11 libri Però Non I libri mi servono Limite se fosse stato il contrario Se fosse stato meglio Ah e comunque I scambi magari li faremo un'altra volta Ehi ma c'è un villaggio Va fuori Da quando? Cosa ci fai tutto solo? Aspetta che ti blocco Forse questo ci siamo dimenticati Di bloccarlo un po' di tempo fa Stai lì Non andare da nessuna parte Perfetto Ora sei al sicuro E Torniamo Aspettate che metto I libri qua dentro E saliamo C'è anche la vista Della nostra casa Era qua Non l'avevo mai visto Che bello Adesso Cerchiamo Di risaltare qua il fiume Eh no Vabbè Spingiamo l'asino Dall'altra parte Poi risaliamo Ok Sto tornando Paolo Tu cosa stai facendo intanto? Falgo un po' di legno Ah ok Bene Bravo Che è abbastanza utile Quindi Adesso vediamo da dove passare Quanti cavoli animali ci sono lì Ok Saltiamo un attimo Vuol dire che questo asino Non salta due blocchi? No Ma che cavolo È un po' scarso allora Ok Ce l'ho fatta Oh mio dio però Ok Sono riuscito a salire E ora devo scendere però Wow È stato un po' inutile Oh no Ho fatto un po' di danno All'asino Si rigenera dopo un pochino E torniamo sopra E vi spiegherò Bene tutti i piani che ho Allora Andiamo qui E saliamo le scale L'asino Ok Ok Andiamoli Ehm Ecco che ho indotto lo zucchero Ehm No Non sono riuscito a fare gli scambi Che non è che c'era molto tempo Alimente faremo In un'altra occasione Ok ragazzi Abbiamo fatto le librerie E adesso Voglio farvi vedere bene Come pensavamo di fare Allora In pratica Cerchiamo di metterle Un pochino a caso Giusto Così Per Devono essere un po' messe a caso Dare questo effetto Questa ho sbagliato a metterla Accidenti Dovrò rifarla dopo Ehm Ok Mettiamo un po' così Poi Così 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 Vediamo a che livello possiamo arrivare adesso 22 Cioè ne servono ancora un pochino Allora Mettiamone una qui Ehm Vediamo a che livello arriviamo 24 E allora ne mancano ancora un pochino Mettiamolo qua dietro l'angolo Così non si vede Livello 26 Altre due librerie Servirebbero Tu Paolo Riesci a A farle Oppure Servono altri libri Io ho tre libri Quindi ne mancano solo altri tre Perché ti manca? Tre libri E basta Tu però ho legno Ehm no Entrambi in realtà No legno ce l'ho Aspetta Abbiamo la pelle Ehm Sì io ne ho tre Però te l'ho Lasciata vicino alla cesta Ok È possibile che non ci sia una carta È qua guarda Dov'è che è? Ok perfetto E ora dovrei riuscire a farla Aspetta Due librerie Perfetto Ora vediamo esattamente dove metterle Ah purtroppo si sta anche facendo buio Magari ne posso mettere una qua E una qua Penso che starebbe bene Dovrebbe essere vero 30 Esatto Ora ragazzi Volevo fare una piccola cosa E voglio fare vedere il tema Di come sarà questa camera Questa specie di stanza all'aperto Allora Iniziamo Uno Due Tre Quattro Cinque Volevo fare delle specie di pilastri Ehm Come se fosse una specie di Non saprei Come spiegare comunque Come se fosse un rituale magico O qualcosa del genere Quindi Ehm Cose di questo tipo Che si fanno una specie di arco Verso All'interno Quindi Dobbiamo farne Una in tutti i lati E poi anche Un po' di più Negli angoli Quindi Un due Tre Quattro Come se c'è qua Un due Tre C'è una mod di minecraft Che crea una struttura Simile a questa Si A me è sempre piaciuta un sacco Non mi ricordo il nome Non mi ricordo come si chiama Tre Quattro Ehm Si comunque ce l'ho presente Penso sia Tomcraft Qualcosa del genere Però Vabbè Ehm Adesso Mettiamone uno anche qui Quindi Un due Tre Quattro Cinque Perfetto E ora Bisogna farle Negli angoli Ehm Vediamo quindi tipo Qui dovrebbe essere giusto Giusto Si Quindi Tre Facciamo così E lo mettiamo nell'angolino Vediamo se è giusto Questo qua nell'angolo Si Mi sembra di si Adesso Adesso mettiamoli anche Qua Quindi A che distanza L'avevo messo Un due Ma forse non è esattamente giusto Uno due Tre Mi sa che non l'ho messo esattamente Nell'angolo Perfetto ragazzi Ho finito di fare tutti i pilastri Ehm Non li ho fatti in questo angolo Perché Sennò sarebbe un po' Complicato Arrivare fino Al tavola incantesimi Ehm Ditemi cosa ne pensate A me sembra Abbastanza bello Poi ora Dovremmo anche Decorare un pochino Il pavimento Che ora è Solo Erba E non è molto bello Magari ci metteremo Un po' di bone meal E far Per far crescere un po' Di fiori E erba Però Per ora il lavoro Il Diciamo Il risultato mi piace Ora volevo lavorare Un pochino Su questo ponte Perché Così come adesso Non mi piace molto E non è neanche molto sicuro Volevo fare Un po' di mezzi blocchi 24 Per ora dovrebbero bastare E volevo metterli Qua intorno Vi faccio vedere come Poi Questi blocchi di terra Probabilmente Li toglierò Servono solo Per poterci mettere I mezzi blocchi sopra Dove sono? Ok Qui E qui Vediamo come stanno Per ora Non mi sembra male Però dobbiamo fare Anche l'altro lato Per vedere esattamente Quindi mettiamo Un blocchi di terra Anche qui Ok Ci mettiamo I mezzi blocchi sopra Ok Ora vediamo Come sta A mio parere Sta molto meglio Ora Un'altra cosa Che volevo provare Questa però Non so se starà Molto bene E mettere I mezzi blocchi qua In pratica Se li mettete qua sopra Non potete più cadere Vedete Sto anche saltando Ma non c'è proprio modo Di cadere Quindi Vediamo come sta Magari da qui Purtroppo però Mi sa che dobbiamo farlo tutto Per capire esattamente Quindi Facciamoci ancora qualche Mezzo blocco Dove sono? Ecco Facciamo Nel 18 Derebbe essere abbastanza Oh cavolo Sono salito Facciamo quasi Dov'è la fine? Eccola Uno Due E tre No Solo tre Mi servivano altri tre Per finirlo Vabbè Allora Forse però Riesco a riprenderli Perché Adesso voglio fare così Voglio fare delle specie di colonne Qua In questo modo Ok Qui quindi Posso fare In questa maniera Mi sembra che sia Abbastanza bello Tu Paolo dove sei? Riesci a dirmi cosa ne pensi Oppure sei lontano? No Sono abbastanza lontano Vabbè Allora niente Però Mi piace Allora Per ora Non è molto bello Perché Sembra sospeso nel vuoto Però Penso che Adesso Non adesso Ma Voglio fare delle specie di supporti Anzi Proviamo a farle adesso Dato che Tanto legno ce l'abbiamo Delle specie di supporti Che Appunto Sembrano che Stiano tenendo il ponte Però Per farli Penso che Prima di tutto devo farmi una nuova pala Che questa è quasi finita Quindi Andiamo qua Altra pala Facciamo così Poi Voglio provare a mettere Dei mezzi blocchi Al centro del ponte Come se stesse Diciamo che vanno sempre più in basso Però adesso non riesco a spiegarvi molta parola Vi faccio vedere Allora Prima di tutto Dobbiamo trovare il centro del ponte Che non sarà cosa facile Torniamo un attimo su Allora Vediamo partendo da Da qui Allora Quanti blocchi sono Uno Due Tre Quattro Cinque Sei Sette Otto Nove Dieci E questo sarebbe undici Quindi contiamo cinque da qui Uno Due Tre Quattro Cinque Questo qui dovrebbe essere il blocco centrale Iniziamo a toglierlo Poi lo rimettiamo dopo ovviamente Ehm Adesso però come passo Ops È una cosa a cui non ho pensato Iniziamo a farci Un po' di mezzi blocchi Come sempre Trenta dovrebbero di sicuro bastare Vediamo se riesco a fare il salto Ehm No Non sono morto No Non sono morto invece Di quanto però Forse non avrei dovuto togliere il blocco Adesso Adesso come torno su Aiuto Vabbè passiamo un attimo qua Cerco di spiegarvi in pratica Da quel blocco Faremo partire Un mezzo blocco sotto Che poi andrà Piano piano Metteremo altri Mezzi blocchi Che andranno verso il basso E si collegheranno alla montagna Dovrebbe Stare abbastanza bene Adesso però Dobbiamo provare a farlo Non so neanche come verrà Perché non ci ho mai provato a fare una cosa del genere Però potrebbe star bene Iniziamo a salire Che purtroppo sono caduto Siamo quasi Ok Adesso passiamo da qui Che ho fatto il passaggio ma non lo uso quasi mai Ok ora Mettiamo un blocco Ok devo anche mangiare Quindi Adesso Facciamo una specie di ponticello Con la terra Un blocco più in basso Se si riesce Ok dov'è il blocco centrale? E' qua Quindi qua ci mettiamo un blocco Poi Mettiamo un blocco Qua In diagonale Poi ne mettiamo uno Qua sotto Sempre in diagonale Poi Aspettate che inizia a togliere questo Ok Adesso metto un blocco qua E l'altro mezzo blocco qua Poi vediamo come fare Devo metterlo a questa altezza Perfetto Quindi questo sarà uno Adesso chiudiamo qua Con della terra E torniamo su E vediamo come sta Se sta bene Facciamo anche dall'altra parte Il problema è Dov'è che posso andare per vederlo? Forse riusciamo da qua Ah beh Sì mi piace Purtroppo c'è questa terra Che mi dà un po' di fastidio Adesso appena scendo giù Anzi Appena scendo giù Adesso La sistemiamo un pochino Però non ho terra Vabbè Uso la cobblestone Tanto poi Devo toglierla Ok qua possiamo togliere questa Avviciniamoci un pochino E ok Adesso quindi Vediamo se riesco a togliere anche quei blocchi però Mamma mia quanti blocchi di cobblestone sto mettendo Vediamo se si può togliere anche questi Vediamo se si può togliere anche questi Qua ok Adesso Dobbiamo mettere il mezzo blocco Qua Eh dobbiamo scendere però mi sa Quindi andiamo qui Togliamo questi Quanto casino che c'è Vabbè chi se ne frega se i blocchi cadono tanto Ne ho un sacco di cobblestone Quindi dobbiamo metterlo qua Aspettate Il blocco qua E dai ho sbagliato Così Poi Si è giusto in diagonale Poi devo mettere un blocco qui E qui E mettere mezzo blocco qui Adesso facciamo così Sposto un attimo questa cosa di terra Mettiamo mezzo blocco qui E qui Ci siamo quasi eh Anzi Vabbè comunque questo poi lo tolgo Quindi possiamo anche far così E poi come facciamo Non così Così Perfetto Ora dovrebbe essere a posto Cerchiamo di salire Ci riusciamo Senza cadere Ok E ora andremo a vedere come sta Togliendo anche questa cobblestone che ho messo Ci siamo quasi Vediamo come sta Beh A mio parere è abbastanza bello Forse Andrebbe fatto più largo Andiamo magari da più lontano Vedere come sta Vediamo se riesco ad andare Da qua Vediamo se si vede Un attimo eh Beh Visto così Non è tanto male Forse come ho detto Va fatto un po' più largo Però Direi che Per questo episodio è abbastanza Grazie a tutti per la visione Come sempre Se vi è piaciuto il video Non dimenticate di lasciare un like E di iscrivervi Per un nuovo video di Minecraft Ciao a tutti E ci vediamo nel prossimo episodio Ciao a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti